Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Claudia, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per realizzare questo cappellino con l'inserto in forcella e poi terminato con l'uncinetto che si abbina e forma il completo con lo scaldacollo che ho già realizzato sempre con questa tecnica e ho pubblicato il video qualche settimana fa, quindi adesso questo è per realizzare appunto il cappello suo coordinato. Se non l'avete guardato, guardate anche il video dello scaldacollo appunto e provate a realizzare questo cappellino, mandatemi le foto sulla pagina facebook, trovate il link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questo cappello abbinato allo scaldacollo che abbiamo già realizzato qualche settimana fa è della lana sempre la stessa, appunto io adesso ho cambiato colore perché ho realizzato vari completi con tutti i colori che c'erano di questa lana, quindi adesso vi presento questo qua sul rosso, invece lo scaldacollo che avevo realizzato prima nell'altro video tutorial era il color porpora, quindi oggi appunto vediamo questo rosso che è anche molto 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 bello. Quello che dobbiamo fare per prima cosa è realizzare sempre le nostre strisce di forcella intrecciate, che io qui ho già fatto, quindi vi occorrerà sempre la forcella, che bisogna regolare nel foro più stretto, quindi solo quello largo così, perché sennò il cappello viene troppo bucato e a me non piaceva, quindi l'ho regolato sui due fori più stretti e ho realizzato sei strisce di forcella con 85 maglie l'una e dopodiché le ho intrecciate. In questo video tutorial non vi faccio vedere questo perché è esattamente quello che faccio vedere nell'altro video dello scaldacollo, quindi per chi non l'avesse ancora visto può andare a vedere il video precedente, che lascio il link in descrizione, e dovete fare la stessa identica cosa, solo che le strisce devono essere lunghe 86 maglie e dovete regolarle invece che nella parte più larga della forcella in quella più stretta. La differenza è solo esclusivamente quella. Dopodiché, quando abbiamo queste strisce, io le ho unite a maglia bassissima, proprio come fosse uno scaldacollo, lo vedete sempre nel video precedente, quindi bisogna sempre unirle assieme e si crea questa specie di fascia, come fosse uno scaldacollo in miniatura. Dopodiché vediamo come trasformarlo in un cappello adesso con l'uncinetto e la lana avanzate, diciamo. Realizziamo il cappello vero e proprio. Allora, prendiamo sempre la nostra striscia, filo sull'uncinetto, ci inseriamo con un punto bassissimo in una di queste asoline intrecciate. Vedete, queste sono le nostre trecce, ci inseriamo all'interno di una che desideriamo, in questo modo, e ci andiamo a inserire con una maglia bassa. Così. Dopodiché, all'interno della stessa nocciolina, dello stesso, diciamo, intreccio, io vado a realizzare due barra tre le alterno maglie basse, quindi adesso ne ho realizzate due, vedete, nella stessa, vado nel mio intreccio seguente e qui ne realizzo tre. Una maglia bassa, due maglie basse, tre maglie basse. In questo modo, in quello seguente ancora, sempre nell'intreccio, vedete che punto esattamente nell'intreccio che è stato fatto con la forcella, e vado a farne altre due maglie basse, stavolta. Dopodiché, vado a farne tre in quello dopo ancora, in modo che i punti vengano belli vicini. Quindi tre, adesso altri due, uno e uno, due, e di nuovo in quello seguente altri tre. E così via per tutto il giro, fino ad aver girato attorno a tutta la nostra striscia ed essere arrivati di nuovo qui dove abbiamo iniziato. Se l'avete a disposizione, molto utile è utilizzare una testa e inserirci sopra la nostra striscia. Allora, adesso vi spiego. Noi andremo a lavorare da una parte e dall'altra. Questo è il lato che abbiamo già iniziato, questo invece è l'altra estremità della striscia. Anche di qui lavoreremo perché faremo un po' di giri di maglia bassa e poi l'aletto del nostro cappello. Però adesso stiamo realizzando questa parte, che però, come potete vedere, noi dobbiamo andarci a stringere. E questo adesso ce l'abbiamo molto largo. Quindi, nei giri a venire, andremo sempre sempre a diminuire perché dobbiamo appunto fare in modo che si forme la nostra calotta e che questo si stringa in questo modo. Eravamo qua, abbiamo terminato il giro e adesso andiamo a diminuire. Quindi io farei che lavoriamo due punti bassi e il terzo diminuiamo. Quindi lo saltiamo e andiamo direttamente nel quarto. Lavoriamo di nuovo uno e due maglie basse e di nuovo il terzo punto lo saltiamo. Quindi facciamo un aumento ogni due maglie. Quindi di nuovo una e due maglie basse e il terzo punto lo saltiamo. Di nuovo due maglie basse e il terzo punto lo saltiamo. e facciamo così per due giri. Questo è il successivo. Guardate, se ora posiziono il mio cappello sulla testa vedete che è ancora un pelino largo qui ma si è ridotto notevolmente. Quindi adesso proseguiamo sempre a diminuire però più gradualmente perché dobbiamo andare a ricoprire tutta questa zona. Quindi adesso andiamo a diminuire io direi ogni quattro maglie. Facciamo una, due, tre e quattro maglie basse e la quinta la saltiamo e andiamo a diminuire. Quindi di nuovo una, due, tre, quattro e la quinta la saltiamo e diminuiamo. E proseguiamo così per tutto il giro. Terminato anche questo giro ne andiamo a realizzare due giri senza aumenti quindi lavoriamo solo a maglia bassa un punto per ogni dei punti che abbiamo. Così per due giri. Sempre per cercare di farvi capire meglio posiziono la barretta sulla testa in modo da capire esattamente come diminuire. Vedete che adesso siamo andati in linea quindi non dobbiamo più diminuire di molto se no le maglie che ci occorrono per andare a formare il cerchio. Quindi adesso andiamo a realizzare quattro giri dove lavoreremo sempre le nostre maglie basse però andremo a fare quattro diminuzioni più distanti quindi generalmente se ne fa uno qua uno qua, uno qua e uno qua solo quattro diminuzioni tutto il giro per tutte le altre maglie andremo a lavorare la maglia bassa normale e faremo così per quattro giri. Terminati di realizzare anche questi quattro giri vedete che il nostro cerchio è sempre più piccolo e quindi i giri sono sempre più corti adesso andiamo a fare sei diminuzioni per ogni giro quindi una, due, tre e quattro, cinque e sei quindi due e due ai lati più una e una sopra e sotto quindi così per due giri o anche tre facciamo tre giri andiamo a fare queste sei diminuzioni per ogni giro sempre quindi due qua, due qua, una e una in questo modo guardate a questo punto il cerchio lì in centro è veramente piccolo e adesso dobbiamo andare a lavorare due maglie basse una diminuzione, due maglie basse, una diminuzione due maglie basse, una diminuzione per altri due giri quindi due maglie basse più una diminuzione siamo arrivati sempre alla fine e adesso andiamo a diminuire un punto sì e uno no un punto sì e un punto no fino a chiudere completamente il nostro cerchiolino e abbiamo in questo modo terminato di realizzare anche la coppola quindi adesso appunto diminuiamo una maglia sì e una no fino a chiudere questo cerchietto vedete quindi che ho chiuso tutta la mia coppola e adesso vediamo come andare a lavorare questa parte qua davanti dall'altra estremità quindi come prima, esattamente come prima andiamo ad inserirci in un punto qualsiasi della striscia quindi sempre qui delle catenelle della striscia però nell'altra estremità e ci inseriamo con una maglia bassa a questo punto andiamo sempre come abbiamo fatto all'inizio e realizzare due maglie basse nel primo intreccio quindi qui ad esempio una l'ho già fatta vado a lavorare la seconda e poi ci spostiamo nel secondo intreccio vedete che io per intreccio intendo uno, due, tre, quattro questi qua che abbiamo fatto con la forcella quindi ci inseriamo adesso nel secondo intreccio e adesso realizziamo tre maglie basse poi ci spostiamo nel successivo e ne facciamo solo più due andiamo in quello dopo ancora e ne facciamo tre esattamente come abbiamo fatto all'inizio dall'altro lato poi ci spostiamo di nuovo e ne facciamo due ci spostiamo di nuovo e stavolta ne facciamo tre e proseguiamo così per tutto questo giro una volta terminato questo giro andiamo a realizzare sei giri di maglia bassa con i punti che abbiamo quindi senza più né aumentare né diminuire semplicemente lavorando un punto basso per ogni punto sottostante questo per sei giri e adesso andiamo a realizzare sei giri una volta realizzati tutti questi sei giri ecco che il nostro cappello finalmente incomincia a prendere forma adesso non ci resta che realizzare l'aletta come? semplicemente andando a fare degli aumenti un punto sì e un punto no quindi lavoreremo una maglia bassa normalmente quindi una maglia bassa singola nel punto seguente andiamo a fare un aumento quindi lavoriamo due maglie nello stesso punto dopodiché noi lavoriamo di nuovo una maglia bassa da sola e una maglia bassa con gli aumenti nel punto seguente di nuovo una maglia bassa singola e due maglie basse nello stesso punto una maglia bassa singola e due maglie basse invece nello stesso punto quello seguente e dobbiamo proseguire così per due giri quindi per tutto questo e per tutto il prossimo facendo questi aumenti una volta realizzati anche questi due giri come potete vedere il nostro cappello si sta decisamente allargando quindi come ultima cosa perché questa sarà la nostra ala dopo questi giri di aumenti graduali andiamo a realizzare ancora tre giri di maglia bassa senza più aumentare esattamente con il numero di maglie che ci troviamo gli ultimi tre giri tutto attorno di maglia bassa dopodiché il nostro cappello è terminato ecco qua guardate ho terminato anche i giri dell'ala e questo è il risultato in questo modo sta così con quest'ala non molto grande appunto in questo modo mi piace molto come modello mi piace tantissimo poi la cosa più bella è la sfida di unire la forcella con l'uncinetto e realizzare appunto questo cappellino un po' particolare e sicuramente non ancora molto visto diverso dal solito spero che il video vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commenti io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo video ciao ragazzi